Che cazzo è? Spengo? 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 Stiamo con il video di... Leo, cosa dici se ti metti un po' più sinistra sulla telecamera? Ma... Ma... E' questo a farlo! Per me sono fatto quale... C'è la volgarità Scusate tutti Il tifo torino Perfetto Riccore! Rosso! Oh! Cos'è? Go! Go! È pronto! Comunque si vede che il Milan cerca di giocare bene ma... Non ce l'ha fatto Felicitei nel cipro e non ce l'ha fatto Non ce l'ha fatto La tira su per i pizzini Accendi! Go! Go! GOOOOOOOL! Ah... Ahahahah Milano di merda! Alla... Pescatore del cac... Comunque come partita... Vieni con i finali vinte con la serie Vieni con i finali vinte con la serie Vieni con la telecamera e sei vinto Ok Un costo costo di partenza Sinistro, di sinistro! Ma Montolivo! Ma guarda veloce! Ma guarda fuori! Ma che scappo c'ha! Mamma mia! Ma guarda Montolivo! E' sempre lui, è un fenomeno! Vieni con i finali! 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 Ma questo è un pubblico! Non so che l'anno prossimo Giornati sabato! Mi scompiassi la madre patta! C'è un'altra mamma a giocare! Allora, è stato un bellissimo primo tempo! Guarda lì! Guarda lì! Ecco lì! C'è la... Ha giocato veramente bene! Beh, ti fa milano, è onesto! Si, ha giocato veramente... A caso però... Bene, ma il gatto mi sa che non ha giocato la Juve! Si, si! E' una partita di merda! Che in effetti mi dispiace di aver perso i primi tre minuti... Di secondo tempo di una partita così emozionata! C'è Chiellini e Fianza Zappata! Chiellini! Guarda lì! E' rosso! Dai! 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 E' rosso! E' rosso! Gianni Morandi! Cosa... Giusto per allungare il video... Allora, se volete insultare lui, lui ha un canale, non segnalate a me, segnalate lui! Basta! Oh, bello lui lo amo! Buffon dice di stare calmi, chissà perchè... Perchè è troppo accesa come... Scalliamo! Bello calmarla! No, ma più calcio siamo arrivati al punto in questa partita che è molto live nella condizione... Di giocare bene! No, a parte che di giocare bene... Di far esaltare il pubblico! L'espressione media di un milanista! Di due milanisti, scusate! C'è la media di un morto ogni tiro, va bene che non l'ha mai tirato... E' legale! Eh... Hai reso conto il secondo tempo? E' stata una bellissima partita! E'... Emozionante! A sprazi emozionante! A sprazi spruzzi! Chi vuole parlare? Molti spruzzi! Si! Però, dai, tutto sommato, comunque... Pensavo peggio, dai... Dalla mia sponda... Dalle... Dal... Dal... Dal Milan, no? E te invece la pensavi meglio? No, a me... A me andava bene anche un guad del Milan, solo che un'altra mezz'ora di rottura di coglioni qui è... Eh, piaccato se si scarica la batteria, qua 32.000 metri qui non ciò! Esattiva! Ciao! Almeno abbiamo fatto un tiro semi pericoloso! Al centoiguesimo! Ci sta! Fine primo tempo, primo tempo, primo tempo supplementare di merda! No! Sono io! Ciao! Posso salutare? Allora... Allora... Ciao! Ricordati! Sbrigati che si sta scaricando! Appunto, questo è il bello, che io sto qua a dire piaccato e sto andando perché così si scarica! Si... Si! Super! Undicesimo! Altro che in real! Queste son le coppe che contano! Facile vincere la Champions! Eh? Facile vincere la Coppa Italia! Facile vincere la Champions, eh! Sette Champions League! Vinci 11 Coppa Italia!! prima di parlare volevi volevi la Coppa Italia è uguale tanto si scarica finita l'agonia finita dispiace per il Milan che comunque ha giocato bene ho giocato meglio della Juve complimenti al Milan complimenti alla Juve complimenti al Napoli Sassuoli in Europa League vaffanculo che si sta scaricando ciao